Alessio, non è andata come speravate, però c'è da dire che questa squadra non meritava quest'anno di giocare la Serie B, avete dominato un campionato e oggi a momenti battete la piglia tutto del campionato d'elita. Sì, sì, è una sconfitta che sicuramente non ci va giù, meritavamo qualcosa di più, però andavamo a giocare partite così importanti senza 3-4 titolari, comunque senti la mancanza, loro 6-7 cambi, noi solamente 3, verso fine partita comunque la senti la stanchezza e loro ci hanno fatto male in quel momento, ci rivedremo in finale. Questo chi lo sa, sicuramente affronterete a quanto pare il Maccabi sicuramente perché dovrebbe essere passato da primo, la Lokomotiv come seconda in virtù della classifica disciplina che è una variante, una discriminante importante nel nostro torneo. Voi comunque questa gara l'avete affrontata col piglio giusto, anche se siete andati sotto, avete preso le misure, soprattutto voi là dietro perché uno come Kalinic che gioca così, gioca in corsa con le palle che gli arrivano da dietro, limitarlo da quel punto di vista è stata la chiave tattica. Sì, assolutamente, noi ci aspettavamo comunque questo tipo di partita, loro bravi lì davanti, noi siamo riusciti per i primi 40 minuti, anche inizio secondo tempo a fermarli, però poi ripeto la stanchezza si è fatta sentire e loro ne hanno approfittato perché comunque sono 3 ottimi giocatori là davanti, quindi bravi loro, meno noi, si rivedrà. Come avete fatto a creare un gruppo così bello, così unito, così compatto e così forte in un solo anno? Merito del mister, merito di noi, comunque siamo un gruppo che ci piace giocare, abbiamo giocato tutti comunque a buoni livelli, ci siamo trovati subito, poi partita dopo partita ci siamo trovati sempre di più e ad oggi ci sentiamo comunque un'ottima squadra che può competere con squadre di un certo tipo in questa categoria. Grazie Alessio e Mattei. Grazie a voi.